L'uomo potrebbe non essere più in grado di affrontare i cambiamenti ambientali come specie. È l'ipotesi di uno studio dell'Università del Maine, condotto da ricercatore statunitense Tim Waring, secondo il quale i processi di adattamento culturale all'ambiente che in passato hanno permesso all'uomo nello sviluppo di tecnologie agricole e industriali non funzionerebbero più. Tra le cause principali è lo sfruttamento intensivo e il progressivo esaurimento delle risorse naturali, che sempre più globali e meno locali sono oggetto di contese e di lotta tra le società umane. La conclusione dello studio disegna uno scenario inaspettato, proseguire con gli stessi modelli di sviluppo che hanno condotto l'umanità a piegare la natura significherebbe andare verso l'autodistruzione. La soluzione dunque sarebbe quella della cooperazione tra le società umane e la pianificazione di un sistema di sviluppo mondiale in grado di superare le priorità divergenti di ogni gruppo sociale e questa, secondo Waring, sarà la sfida più difficile da superare.